Voglio leggervi una mia considerazione dal titolo Segreti Missione Junga Carnevale Caldo, acqua e neve, vento Tutti gli ingredienti per rendere particolare e unica l'esperienza di avventura La missione Junga Carnevale è cominciata subito per essere sedotto davanti il viaggio d'andata in treno da una splendida fanciulla che seduta al mio fianco con gambe velate mi non dava di libido non sedotto per essere corrotto ma sedotto per essere più attraente Carnevale a Baden, una furia di maschere e per costrizione senza obbligazione e attrazione femminile, la poliziotta molto sensuale Una giornata memorabile e adorabile a Zurigo Visitare e sostare nella casa del padre della psicologia analitica aiuta a riflettere senza smettere di pensare L'infinito silenzio sulla sponda del lago di Zurigo in una giornata semi-uggiosa La fine di un viaggio come principio di fine tempo Il tempo che rimanta, che rimane, che avanza in mancanza di spazio Milano al ritorno semideserta da psicosi coronavirus Una settimana di quarantena Qualche decimo di febbre con attacchi di calore, raffreddore, spasmi di tosse Ciò che resta presto sarà dimenticato e ricordato pur nel silenzio Grazie a tutti Grazie a tutti